Voglio raccontarvi una storia La mia storia Con internet ho trovato la scuola di design che cercavo Ho programmato ogni dettaglio delle mie vacanze in Svezia Ho conosciuto una ragazza, è svedese, ma su internet ci vediamo ogni giorno Tra moltissimi annunci ho trovato il lavoro che fa per me Sono guarito da una brutta malattia Se non fosse stato per internet, gli scienziati Miller e Hiroshi non avrebbero lavorato insieme e trovato la cura Ho aperto un blog, ora condivido i miei lavori con il mondo Un'azienda americana le ha visti e vorrebbe che designassi per loro Con internet ho condiviso idee, scambiato pensieri, ho conosciuto persone lontane sentendole vicine Oggi sono un designer famoso, ma se non fosse stato per internet, tante cose non sarebbero successe I love internet Perché mi ha messo in contatto con il mondo E oggi il mondo è la mia casa E oggi il mondo è il mondo è il mondo